Entrate nelle pagine gialle, così anche voi conquisterete il grande pubblico. Come? Evidenziando il vostro nome e la vostra attività. Con 20 milioni di copie le pagine gialle vi portano in tutte le case, negozi, uffici e la pubblicità sulle pagine gialle funziona. In tutto il mondo milioni di persone hanno raggiunto il successo nella loro attività grazie alle pagine gialle. Pagine gialle, un grande volume d'affari. Grazie.